con questo gruppo si cammina molto però si mangia anche tanto ma quando è il momento di far festa nessuno si tira indietro eccoli eccoli guarda che felici e non è ancora arrivata la pizza tutti in gruppo tutto il gruppo ecco ecco che c'è rimanere la coni e la franca ora la franca e comincia la cerimonia quella premiazioni e premiazioni consegna dei diplomi si preparano le autorità e la prima a ricevere il diploma è la teresa foto di rito di diploma la coni la coni coni in francese coni concetta 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 e la famosa franca e quando non metto di mangiare chi si chiama la reginetta fai tu taglia tu tu sei brava reginetta e dopo si chiama i camerieri ma quelli quindi attenzione che facciamo attenzione scopriamo in testa qualcosa si si qualcosa senza la documentazione e dopo ecco il momento clou della serata franca franca che distribuisce alle donne che sono felicissime e dicono quando c'è franco è sempre otto marzo otto marzo sempre otto marzo guardate franco con quale gioia e gentilezza consegna i suoi di carla robarta nessuno rifiuta il fiore tutto è impossibile tutto è impossibile bravo franco studia il tavolo e anche il passoio perché calcola se il numero è giusto ora sei hai più il resto sei da persona è che si vai a mettere nel vila d'ora sei andata con il bottecato sei andata verso il vivo evviva arriva il caffè Adriano, e questo è un momento della foto, come essere all'asilo, una confusione, difficilissimo gestire, ecco la foto finale, tutti fermi per fortuna, è una foto, tutti contenti, è stata una bella serata, una bella serata, molto molto bella, da ripetere, salutiamo tutti, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao